Se volete acquistare i crediti di FIFA Points a pressi bassi dal sito più veloce al mondo Nella consegna passate da IGVOLT con il link e il coupon in descrizione Buona prima ragazzi, qui è Justice e oggi siamo tornati con il pack opening dei pack opening Il super pack opening per i Tots della BBVA Come vedete il Ronaldo 99, non si sa perché l'hanno fatto più forte del Todi Dato che il Todi è la carta massima che un giocatore può avere, però vabbè Ma soprattutto un Suarez 98 che ha delle statistiche incredibili Più tantissimi altri giocatori spacchetteremo come le merde Purtroppo non ho pacchetti del draft perché non ho avuto proprio il tempo materiale per giocare Perché ha avuto dei problemi, si è spaccato il cellulare, insomma cose incredibili Però noi partiamo subito, dovete subito lasciare un bel mi piace Partiamo col primo pacchetto da 25.000 crediti 350 FIFA Points e andiamo a vedere subito chi troviamo Sané, Sané che non ci interessa Non ci interessa e quindi lo mandiamo a fanculo Secondo pacchetto signori, io lo so che sono difficilissimi da trovare Soprattutto i top, non c'è bisogno come lo vengiate a dire Però sarebbe tipo la cosa più bella del mondo trovarne uno dei quattro Quindi Messi, Ronaldo, Suarez o Neymar Che sono quelli un po' più Ma c'è anche Griezmann, Benzema Tantissimi altri signori Sono veramente tantissimi giocatori forti di questo Tots Ci mancherebbe altro, è il più forte di tutti Quindi signori speriamo assolutamente di trovarne almeno uno Almeno uno per sfizio diciamo Non ovviamente di quelli forti che è quasi impossibile trovarli Intanto sto parlando e aprendo pacchetti a ruota proprio Senza trovare un cazzo di niente Andiamo avanti, andiamo avanti perché noi non ne mordiamo Lasciate un mi piace, ovviamente Uh, Iguain, il Pipita Non ci credo Non ci credo Oh mio Dio, il Pipita Record Breaker Oh mio Dio Pazzesco Il Pipita Iguain Quanto vale? 200.000 Non è Tots Infatti mi chiedevo chi potesse essere Di Argentino Ma non è Tots Incredibile Porco 2 Faccio vedere che è mio Destra-sinistra Destra-sinistra Signori ma Il Pipita Inaspettatissimo 95 di tiro Signori Inaspettatissimo Probabilmente uscirà Tots la prossima settimana Quindi lo venderò proprio subito Ma porca trota Porca trota Signori Iguain Record Breaker Mamma mia Pazzesco Pazzesco Meglio di molti Tots Devo dire Meglio di molti Tots Però un Tots È sempre un Tots Però Record Breaker Una carta Record Breaker Signori abbiamo trovato C'è No Questo video deve essere sfondato Di mi piace Almeno 3.000 Per forza Proprio Cioè ma proprio per forza Iguain Il Pipita Il Pipita Lewandowski Era Tots Era Tots Era Tots Era Tots Era Tots Lo sapevo io Fino a Un'ora fa E un'ora e mezzo E un'ora e mezzo fa Era Tots Lewandowski Va bene Signori ma il Pipita Record Breaker Anche Lewandowski Come avete visto Oddio Ma che cazzo succede oggi O ciò che non è Tots Ma boh Cioè De Ronaldo Datemi a sto punto Cazzo Anche se tra un po' Sono le 9 Quindi non so se usciranno Pacchetti speciali Ma non credo Perché il primo giorno Ames Io Non è Tots Ovviamente Perché Quelli Tots Non me li danno Però comunque È un ottimo giocatore Andiamo avanti Signori Andiamo avanti A questo punto Mi sembra che questo account Sia tipo il più fortunato Della storia di FIFA Datemi Ronaldo Se non mi date Era Tots Io però Va bene che sono giocato di buoni Ma era Tots Mi state prendendo per il culo Allora Allora ditelo Che mi state prendendo per il culo E porco di un porco Sicuramente avrò si avrò Tutta la fortuna Con Iguain E gli altri top player Che abbiamo trovato Quanto pare no Perché è un altro if Mandi Te mando Te mando a fanculo Perché non vale in cazzo Taci tua Però vabbè È un altro if Signori Un blu lo volevo trovare Va bene che è difficile In questi pacchetti Però Uno 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 Bic 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 Adulizzo 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 Che v'ho detto Che v'ho detto Chi è 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 No chi è Ditelo Ditelo Non vi sento Non vi sento Lasciate un like Non vi sento Ma lasciate un like Adulizzo Signori Adulizzo Tu costa un cazzo Per ammortarci tua 120.000 Qual col 2 91 Vabbè 91 Signori 91 91 Chi è il king Chi è il king Io Basta Io Basta Ho deciso C'è signori C'è signori C'è signori C'è signori Certo Mi poteva dare qualcosa Qualcosa un po' di meglio 91 Vabbè Signori Ammirate questa schermata Adulizzo Primo proprietario Vi faccio vedere Primo proprietario Primo 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 Ok Mandi If Hamestrodiges Che non è Toz Müller Che era Toz Oceoa Lewandowski Che era Toz Higuain Fucking Record Breaker Mamma mia Naldo E poi Company Signori Quindi Pochi giocatori Pochi ma buoni Pochi ma top Over the top Quindi lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se ancora l'avete fatto Passate da IG Per i vostri credi Ci vediamo al prossimo video Vi ringrazio come sempre Per la visione Ciao Ok signori Ci sono i pacchetti Da 100.000 credi Ho appena visto Il twitter Dell'eSports L'hanno messi Porco 2 Limitati nel mondo 9274 Andiamo col primo Velocissimi 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 Signori Dobbiamo assolutamente Scolare in questi pacchetti Primo pacchetto Subito Subito Douglas 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 Si 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 Il primo pacchetto È il primo pacchetto È il primo pacchetto Douglas Costa Quanto vali Quanto vali Quanto vali 400.000 400.000 350 400.000 Cazzo 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 Vendiamo tutta la lista Veloci 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 Non ho neanche il tempo Di esultare Signori Vediamo se c'è qualche doppione Ma non ho doppione Quindi andiamo avanti Cazzo Non ho neanche il tempo Di esultare Cazzo Cazzo Non ho neanche il tempo Di esultare Secondo pacchetto Vai 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 Secondo pacchetto Iaia Ia Il toz Il toz Iaia Il toz Iaia Il toz Altro pacchetto Terzo pacchetto Ne rimangono 9.000 Non stanno scendendo Neanche così velocemente Però terzo pacchetto Vai 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 Chi è Chi è Riperì Riperì Un altro Un altro Un altro Oddio Non ci credo Oddio 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 Che cosa sta succedendo In questi pacchetti Porca puttana Altro pacchetto Già perso il conto 8.900 nel mondo Posso anche un po' Calmarmi Ma no Altro pacchetto Altro pacchetto Vai Vai Chi è Sanchez Unif Si 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 Che pacchetti incredibili Sanchez Unif Rudiger Vai 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 Veloce Veloce Scarta 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 Vai Vai Altro pacchetto Ne possiamo aprire altri due Forse altri tre Vai 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 Un altro Un altro Un altro Vai 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 Veloce 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 Vai Vediamo Vediamo Portiere No Eratoz Vabbè Sì Blu 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 Sì De Gea E blu Anche se De Gea Eratoz va bene Però c'è Calu Sì Sì Veloce Veloce Ultimo pacchetto Forse anche un altro Non ne possiamo aprire Se scartiamo qualcosa Vai 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 Velocissimo 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 Ames Ames E Chiellini Ames E Chiellini Sì Buono 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 Dai Ultimo pacchetto Andiamo ad aprirlo Dai Ti prego Ti prego Qualcuno di devastante Vai 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 Chi è Bale È Bale È Bale Sì 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 Oddio Grande Grande Abbiamo fatto bene Grande Che Che pacchetti Che pacchetti